Sessore Anzalone, questo annuario è arrivato all'undicesima edizione, un modo oramai quasi consueto di celebrare la Liguria dello sport e anche la Genova dello sport? È uno strumento oramai diventato necessario per il mondo sportivo dove al suo interno si possono trovare delle notizie, dei punti di riferimento assolutamente necessari per le varie attività quotidiane. All'interno dell'annuario dello sport si riesce a trovare dei riferimenti importanti per le federazioni, per le varie società sportive che a Genova e a livello regionale fanno un grande lavoro su tutto il vario tessuto regionale e cittadino. Quindi è un momento importante per la nostra città, per la regione ma soprattutto per questi momenti, per questi strumenti così utili e necessari per il mondo sportivo.